Tre punti fondamentali nella lotta a salvezza per l'Aglianese che nel turno infrasettimanale di Serie D Gironee manda al tappeto la seconda forza del campionato, ovvero la Pianese, battuta con il punteggio di 1-0. A decidere è la rete di Moscati nella ripresa dopo un primo tempo davvero ben giocato dai neroverdi che poi erano un po' fisiologicamente calati nella ripresa. Nel recupero protagonista assoluto il portiere dell'Aglianese Cristian Bala che ha parato un rigore a Lorenzo Benedetti blindando di fatto la vittoria e i tre punti. È una vittoria incredibile oggi, oggi non ci aspettavamo perché comunque giocavamo con una squadra che era nei vertici alti e niente abbiamo fatto una grande partita e posso dire che abbiamo meritato questi tre punti. Senti, già da un po' di gare che la squadra sta mostrando la faccia giusta dopo la prima parte di stagione, qualche partita era stata magari sbagliata dal punto di vista dell'atteggiamento, adesso invece è quello giusto lo spirito. Questa squadra c'è e c'è sempre stata, l'abbiamo dimostrato anche nel genio d'andata anche se poi abbiamo perso punti male in tante partite negli ultimi minuti, però anche il genio di ritorno abbiamo perso solo con la San Giovannese dove comunque abbiamo sbellato l'approccio, però poi la reazione c'era stata e c'era mancato solamente il gol. In queste ultime quattro partite, nonostante le ultime tre siamo sempre andati sotto dopo un minuto, poi abbiamo dimostrato di avere un grande carattere. Merito di noi e del mister che insomma ci dà tanto. Ti festeggi il compleanno con una bella vittoria e soprattutto anche con un'altra prova convincente della retroguardia visto che non avete subito gol? Penso che il regalo migliore oggi non ci potesse essere, vincere 1-0, non prendere gol, quindi un bel regalo mi hanno fatto questi ragazzi.